Ci sono le quali, abbiamo un momento, abbiamo un momento, ci sono le piazze, allora posso continuare, posso continuare, posso continuare perché non vedo l'ora di arrivare a dire quello che le sto dicendo, non vedo l'ora. Allora, vendere una squadra di calcio al giorno d'oggi è pressoché impossibile per mille e di una ragione e magari la propatria ha un pelino di difficoltà maggiore per un motivo molto semplice, perché magari qualcuno dall'esterno fa fatica a capire come mai io che ho salvato dal fallimento alla propatria, sono partito con meno 13, ho vinto il campionato facendo giocare i giovani con la squadra più lombarda, lei sorride perché l'ha sempre negato che ne ho 22, ha continuato a scrivere uno, nega le videoconze, nega le videoconze, vado avanti, vado avanti, abbiamo rivinto l'anno dopo, io l'anno scorso sono stato chiaro e trasparente, a luglio ho detto, io a busto non ci resto più, punto. Quindi io non ho preso in giro nessuno perché l'ho detto pubblicamente, dopodiché accogliendo l'invito del signor Bacchi, quei miei soldi potrò fare quello che voglio o no? Vado avanti, vado, no ma la perla non è ancora arrivata. La cordata dell'avvocato Rimoldi mi ha detto, mi ha detto, tu mi lasci la società pulita solo minimi federali perché se rimangono gli altri li pavi tu.